allora buonasera a tutti cominciamo oggi la prima delle cento ore con cui vi terremo compagnia in questo corso di tecniche di programmazione che purtroppo inizia subito in modo pesante con tre ore perché l'ora e mezza di ieri ce l'hanno tolta e quindi dovremmo partire subito con la lezione del martedì sera che finisce sapete bene purtroppo alle 19 ma dispiace a tutti ma non possiamo farci nulla allora in questo corso saranno coinvolte tre persone una sono io Fulvio Corno il secondo è Andrea Marcelli che oggi non c'è qui perché era a casa malato e quindi ha preferito stare a casa che venire infettarci qua e il terzo è Alberto Monge che invece è venuto a farsi conoscere per questa introduzione di lezione ci alterneremo parte in aula e parte in laboratorio ok quindi tanto così imparerete a conoscerci diciamo che la parte di lezioni sarà divisa tra me e Andrea e la parte di laboratorio sarà gestita da Alberto e Andrea insieme quindi grossomodo ma alla fine poi ci scambieremo quindi a volte verrò in laboratorio eccetera quindi è un corso unico semplicemente gestito con tre persone e una volta visto chi siamo cominciamo a parlarvi di di che cosa lui va va perché vi sta andando aspettarvi alle 8 e 30 domani mattina in laboratorio e dicevamo questo questo corso di 10 crediti è un corso obbligatorio il terzo anno al secondo semestre e come vi ho già accennato nella mail la cosa più importante che dovete segnare tenere da parte è questo indirizzo web bit.ly slash technic prog non è però non è facilmente pronunciabile ma è facilmente cliccabile che porta al sito in cui c'è tutto il materiale che vi possa servire per questo corso non uso il portale della didattica ma metto il materiale direttamente in questo corso qua uno i motivi per cui non uso il portale perché magari c'è una persona non sono a posto col carico didattico vogliono vedere materiale eccetera eccetera è troppo limitativo il funzionamento del portale per cui andremo su questo sito poi vi racconto tra un attimo che cosa c'è allora questa è la prima chiacchierata la prima ora scarsa la prima lezione parleremo un pochino di quello che si aspetta nel resto del corso partendo da qual è l'obiettivo del corso cosa vogliamo fare dove voglio accompagnarvi e e poi che cosa faremo quindi per arrivarci allora l'obiettivo che vero al di là delle parole che trovate sulla guida dello studente eccetera e quelle che adesso ci sono questa slide l'obiettivo vero di questo corso è fare in modo che voi futuri ingegneri gestionali quando incontrerete nel vostro lavoro un problema una problematica organizzativa una problematica di ottimizzazione una problematica di di qualche tipo pensiate vi abituiate a pensare tra le opzioni possibili per affrontare per risolverla c'è quella algoritmica computazionale che passa attraverso la realizzazione di un programma che mi aiuta a risolvere un problema nei corsi gestionali vi insegnano nelle altre materie molti metodi risolutivi un metodo basato su questa procedura inserisci i dati in questa tabella rielaborali in questo modo aggregali in quest'altro modo eccetera eccetera molte tecniche che imparate ad applicare in varie casistiche ok ecco io vorrei che voi rimaneste con l'idea che ok vanno bene queste tecniche ma ce n'è una in più c'è la possibilità di costruire un software che mi aiuti ad analizzare e a volte a risolvere o perlomeno mi assista nell'analizzare e risolvere quello che è un problema applicativo gestionale ok e quindi nel impostare il corso la preoccupazione principale è proprio quella di andare ad affrontare dei problemi e risolverli con alcune tecniche informatica come tutte le diciamo discipline dell'ingegneria è smisurata e quindi qui sceglieremo alcune tecniche algoritmiche che possiamo ad applicare ma la logica è sempre quella di prendere un problema e cercare di risolverlo problema che ci sforzeremo mi sforzerò di rendere non dico reale ma realistico o pratico ok io cerco di mettere non dico più distanza possibile tra questo corso il corso di informatica che avete visto il primo anno ma quasi nel senso che è ovvio che nel corso del primo anno si imparavano le tecniche di base della programmazione purtroppo gli esercizi su cui testavate queste tecniche erano del tutto idioti nel senso che non avevano nessun significato insultare un algoritmo si può perché non si offende non servivano a nulla servivano a testare capacità di programmazione ecco qui siamo invece dalla parte opposta del tunnel siamo alla fine del vostro percorso di studi triannale io quando qualche anno fa mi hanno chiesto di fare questo corso ho insistito finché fosse per ultimo in modo che io qua possa raccogliere ciò che hanno seminato i miei colleghi prima di informatica ma soprattutto di base di dati e di programmazione oggetti vi hanno insegnato tecniche tecniche per fare le query progettare database eccetera eccetera tecniche per costruire classi scrivere algoritmi scrivere i metodi eccetera eccetera ok queste tecniche mettiamole insieme e facciamo applicazioni facciamo programmi che per una volta servono a qualcosa ok e programmi che magari non vi vergognate a far vedere in giro e quindi non la triste finestra nera cupa in cui devi mandare il comando a mano eccetera eccetera no qualcosa che somigli un pochino di più poi cent'ora sembrano tante ma vi accorgerete che non lo sono somigli un pochino di più a programmi reali del giorno d'oggi con cui potervi andare a confrontare anche il contesto di tirocinio anche in contesto lavorativo ma poi come ingredienti diciamo così mentali nel vostro lavoro dicevo questo corso è quasi l'ultimo ce n'è un altro parallelo a questo che è quello di Antonio Lioi di reti di calcolatori e progetti web che è molto simile anche come impostazione cioè a parte la parte di reti di calcolatori che più diciamo così di conoscenza tecnologica la parte di costruzione di applicazioni web segue un approccio simile al mio anche chiaramente pure nelle differenze di impostazione didattica ma lì anche lì imparate a fare qualcosa di pratico usando le cose che arrivavano nei corsi precedenti quindi questo problem solving per me significa allenare la mente a riconoscere l'aspetto algoritmico algoritmico non muoio promesso che c'è dietro alla risoluzione di un problema e cercare di imparare delle tecniche il nome del corso era poi tecniche di programmazione che siano più possibili vicine al real world software quale ho scritto cioè al modo odierno realistico reale in cui si sviluppa il software quindi non solamente imparare delle tecniche algoritmiche ma anche metterle insieme in modo moderno attuale no moderno è una parola brutta attuale cercando di applicarlo a problemi di tipo anche in qualche modo legati al vostro dominio di studi che è quello gestionale organizzativo logistico questi sono gli obiettivi quindi problem solving usando tecniche di programmazione odierne applicandolo a problematiche diciamo così attuali attinenti al vostro percorso di studi questi gli obiettivi li ho declinati in una serie di argomenti che sono quelli che poi ci terranno occupati settimana dopo settimana ora dopo ora laboratorio dopo laboratorio di questo corso in cui ovviamente la parte di problem solving ha una componente prettamente algoritmica è un bel capire il problema se poi non hai le tecniche di programmazione per poterlo risolvere e per cui metà cioè non metà no ma una parte del corso la dedicheremo a ragionare un po' meno un pochino più in profondità sulle strutture dati nel corso di programmazione oggetti avete già visto quali sono le strutture dati principali supportate da java no le liste le tabelle di hash mappe cose di questo genere l'avete vista più dal punto di vista dell'imparare il linguaggio di programmazione le librerie base del linguaggio qui ci mettiamo dall'altra parte e diciamo ok io so queste cose so che esistono queste cose come e quando le uso nel risolvere un problema quando è più adatto a uno piuttosto che a l'altra quando sono più adatti dal punto di vista funzionale quando sono più adatti dal punto di vista prestazionale perché è bello avere un algoritmo che risolve un problema quando poi ti accogli che il tempo di esecuzione di quell'algoritmo è circa 18 mila anni magari non va tanto bene devo trovare un'altra soluzione ma questo in realtà è un numero piccolo quando faremo degli esercizi poco più avanti ci accorgeremo che se volessimo veramente aspettare che l'algoritmo finisse avremmo dei valori dell'ordine non dei 10 mila anni ma delle decine di milioni di anni per alcuni algoritmi anche semplici la complessità è una brutta bestia che in molti problemi reali utili ha un andamento esponenziale e quindi bisogna fare attenzione per l'esponenziale è bello disegnare la loro lavagna perché tanto la lavagna finisce ma invece no quando qualcuno implementi non finisce la complessità continua a aumentare cercheremo anche di capire cosa vuol dire complessità adesso ne abbiamo parlato in modo così anche un po' irrispettoso ma come si fa a misurare valutare quanto è complessa o no la soluzione di un problema in modo anche da poter scegliere tra varie strategie di soluzioni e poi ci occuperemo di strutture dati più complesse per rappresentare problemi più articolati cioè riagganceremo in qualche modo ciò che avete fatto sui grafi nel corso di com'è che si chiama? quello? si chiama? ricerca operativa ricerca operativa grazie scusa anche se lo affronteremo come sempre da un punto di vista molto diverso cioè non andiamo a fare il teoremino o altre cose ma andiamo a costruire il programma che sfrutta l'idea di grafo per fare qualcosa di utile appoggiandoci su una libreria Java nel quale tutti gli algoritmi dei grafi sono già implementati da qualcun altro più bravo di noi e noi impariamo a usarli ok? e idem faremo su problemi di simulazione in cui è un problema complesso non riesci a risolverlo completamente in modo esatto però vuoi provare a vedere cosa succede nel caso A nel caso B nel caso G e quindi simuli come si comporta un sistema sotto frangenti diversi e quindi impari quale potrebbe essere la soluzione quindi questo è un po' sono gli argomenti più tecnici più informatici sul discorso real world software è il metodo che usiamo gli strumenti che usiamo innanzitutto come accennavo prima useremo molto librerie librerie già fatte rispetto... qualcuno mi diceva quando mi hanno detto di fare questo corso ormai sono 4-5 anni non ricordo fai un corso di algoritmi per i gestionali e io la prima cosa che ho pensato è sì ma non deve minimamente somigliare al corso di algoritmi che fanno gli informatici se avete gli amici informatici hanno un corso secondo anno che si chiama algoritmi di programmazione o programmazione avanzata o nome del genere e dove il corso di studi è completamente diverso si imparano a costruire gli algoritmi costruire le strutture dati ottimizzarle e capire come funzionano nel dettaglio ecco qui di nuovo ci mettiamo dall'altra parte qualcuno più bravo di noi avrà costruito delle librerie che gestiscono le tabelle di hash che gestiscono le mappe che gestiscono i grafi che gestiscono le code prioritarie è chiaro che devo capire di cosa si tratta cosa significano queste parole ma io non sono obbligato a reimplementarmi da zero se c'è già una libreria che le implementa imparo a usare quella libreria e costruire un'applicazione che sfrutta questi algoritmi fatti da altri devo capirli, sapere quando usarli capire come usarli ma poi il mio focus è quello di usarli non tanto di implementarli quindi per questo e che poi è ciò che fanno i programmatori di tutto il mondo se devo leggere un file in formato che ne so, csv o in formato xml non è che mi metto a scrivere io la cosa che va a separare le stringhe dove c'è la virgola le virgolette eccetera i doppi apici per leggere un file in formato csv se lo faccio non sono un buon programmatore non sono un buon ingegnere devo andare a trovare una soluzione collaudata che faccia il compito stupido stupido ma rognoso tignoso perché poi magari ci sono 12.000 casi particolari che se lo faccio io non mi saltano l'occhio e non implemento correttamente invece devo riuscire a trovare una libreria che lo faccia già e poi concentrarmi sull'uso che faccio dei dati non tanto sul risolvere il problema più di basso livello quindi imparare a programmare usando librerie esistenti e non farsi tutto da zero imparare attraverso queste librerie anche a dare più potenza ai nostri programmi quindi librerie che ci permettono di accedere alle basi dati che senso ha? io non conosco nessun programma di tipo gestionale o che possa avere un interesse minimamente gestionale i cui dati vengono inseriti a mano scherziamo qualunque problema serio ha una quantità di dati notevole su cui deve lavorare e questi dati saranno dentro un database relazionale da qualche parte e quindi il mio programma se deve aiutarmi a risolvere il problema deve essere capace di leggere i dati dal database e farne qualche cosa una delle prime cose che impareremo è come interfacciarci al database non inserire i dati da tastiera o leggere da un file formattato come ha deciso mio zio no, leggiamoli dal database in SQL come giusto che sia come in tutto il mondo fanno idem per la parte di interfaccia utente non vogliamo la finestrella nera triste vogliamo l'interfaccia utente che ci abbia i bottoni che ci abbia le icone che ci abbia i campi di testo il copia e incolla la scrollbar quello che ci si aspetta da un programma quando lo lanci ok? e anche lì troveremo delle librerie di relativamente semplice utilizzo proprio per costruire l'interfaccia grafica poi qua getto i semi ovviamente in un corso potrò approfondire fino a un certo punto ciascuno di questi filoni poi se qualcuno di voi si diverte le malattie sono tante una è questa si diverte può approfondire chiaramente sulle varie filoni che qua accenniamo impariamo a usare nel modo diciamo più di base le varie librerie poi chiaramente c'è sempre spazio per approfondire e non da ultimo il metodo di sviluppo oggi oggi quasi nessun programma è fatto da una persona sola quasi sempre in qualunque progetto anche non informatico esistono dei gruppi di lavoro dei team che sviluppano una soluzione allora un team che deve lavorare su un progetto condiviso facciamo l'esempio più semplice che c'è scrivere una tesina di 5 pagine in Word allora se voi cominciate a collaborare pensando di collaborare via mail scambiandovi le versioni del documento io scrivo un pezzo tu scrivi l'altro poi aggiungilo vi odierete subito e idem se lo passate su chiavetta e non è molto meglio scambiarlo su Dropbox pensate a scrivere un programma insieme tu hai scritto un pezzo di programma una mia funzione una mia classe fatta bene poi non funziona più perché qualcun altro ha cambiato un pezzo del programma dall'altra parte ha cambiato il metodo ha cambiato la definizione della classe ha reso privato il costruttore o qualcosa del genere e non funziona più il mio programma perché qualcun altro ha toccato un altro pezzo di programma che io non sapevo neanche che esistesse perché non dovevo fare io queste cose allora alla base del poter lavorare in team servono degli strumenti di collaborazione che sono efficaci e che ci aiutino a fare il nostro lavoro noi useremo quello che viene usato direi di più al mondo richieda un gradino di apprendimento non banale c'è un sistema di condivisione e di controllo delle versioni dei sorgenti software che si chiama Git che si appoggia su alcuni siti di cui uno il più famoso è Github che tra l'altro è il sito che viene usato da tutti gli sviluppatori open source al mondo dove magari il 90% delle librerie che ci servono le troviamo proprio lì che sono state fatte gestite e sviluppate da qualcun altro di cui possiamo prenderle usarle vederne il sorgente modificarle eccetera quindi impareremo anche a sviluppare codice usando questo tipo di strumenti noi li useremo anche per praticità all'esame quando voi farete l'esercizio in laboratorio non è che alla fine del laboratorio prendete il progetto che avete fatto ve lo copiate su chiavetta e ve lo portate a casa se lo fate mi dispiace per voi sarò triste vedrete scendere le lacrime ma non è questo il modo impareremo non da domani dalla settimana prossima bisogna un attimo di introduzione a salvare direttamente il progetto su Github diremo su questo server in cui il nostro progetto viene salvato e quando arriviamo a casa e vogliamo continuare a lavorarci semplicemente lo scarichiamo da là rimane lì tutto sincronizzato con l'ultima versione aggiornata sempre se mi dovete fare una domanda ho provato a fare questo esercizio e non mi viene e non ci capisco niente ok? allora quello che succede di media che di nuovo mi intrettisce moltissimo è la gente che ha la videata di fronte a sé fa uno screenshot col telefono e mi manda lo screenshot via mail ok? per fortuna quando ricevo la mail non mi sentite perché le parole che direi in quei frangenti non sono molto ripetibili sicuramente non registrabili pubblicate il progetto che state facendo su Github e mi dite guarda il sorgente è lì a quella riga non capisco cosa sto facendo e io vedo il sorgente è lì lo posso scaricare e compilare e vedere poi non lo faccio magari perché non ho tempo perché trovo il problema prima guardandolo a occhio ma non in uno screenshot quindi vi dico già subito le cose che mi fanno arrabbiare così non ci cascate e questo quindi i metodi di lavoro e ci occuperanno quasi metà delle ore quindi metà delle ore sono gli algoritmi metà sono imparare dei metodi di lavoro un pochino più sofisticati che non quello che che impari se non se non lo prendi come mestiere cioè non impari e poi vabbè dicevamo l'applicazione a caso di studio reali e questo io lo faccio cercando di farvi lavorare di nuovo tranne concedetemi le prime due settimane in cui ancora non avremo gli strumenti ma poi da quel momento in avanti lavoreremo su database reali condivisi messi a disposizione trovati su internet che riportino dei dati reali so che già in una delle prime esercizioni mi sembra tre se non sbaglio lavoreremo sulle stringhe esercizi semplici però su un dizionario di tutte le parole della lingua italiana 800.000 cioè non facciamo il programmino per ordinare 20 stringhe o per trovare facciamolo dove c'è l'intero dizionario dell'intera lingua impariamo a lavorare su scale non dico grandi il big data è ancora 2-3 ordini di grandezza sopra ma almeno con dei dati ragionevoli quindi quali tutti i problemi quando faremo problemi di percorsi sui grafi andremo a prendere le mappe della metropolitana di Parigi dove lì vai a vedere i percorsi e trovi anche una soluzione che ha un senso capisci anche se ha senso o no e cose di questo genere su questo aspetto qua se voi avete trovato in giro dei dati interessanti e dei problemi interessanti ve lo dite quindi tanto problema per problema tanto quell'aspetto che mi interessa è quello algoritmico se riuscite a trovare i problemi ah guarda che ho trovato questi dati qua tipo ad esempio l'anno scorso mi ha fatto delle registrazioni sui risultati della formula 1 oppure sulle partite di calcio e sullo sport ci sono molti dati tra l'altro sono disponibili gratuitamente però se trovate qualche cosa anche ah c'è questa data set che non so sui dati della finanza dell'azienda e dell'acquisizione eccetera usiamolo così ci facciamo dei problemi reali sopra applicando gli algoritmi che impariamo boh qui è la stessa cosa che ho già detto a parole ma serve solo se uno legge le slide senza ascoltare come ci organizziamo? beh la cosa base è l'orario ma è facile perché siete qui e quindi avete trovato quale fosse l'orario quale fosse l'aula le ore di lezione sono tre blocchi uno lunedì mattina e due martedì un poveriggio barra sera e due blocchi di laboratorio di due ore ciascuno da quando hanno messo le ore da un'ora e mezza io non so mai come dire comunque sono tre ore per due squadre quindi ciascuno di voi avrà tre ore di laboratorio il mercoledì mattina c'è un prima turno dalle 8.30 alle 11.30 e un secondo turno dalle 11.30 alle 14.30 sono tre ore tre ore rispetto a cinque sono due blocchi rispetto a cinque blocchi sono il 40 per cento delle ore del corso sono le più importanti ok? da metà corso in avanti gli esercizi che fate in laboratorio sono praticamente gli stessi di quelli che vi trovate all'esame che vi troverete all'esame quindi questo è un corso molto pratico di teoria ne faremo poca quindi anche molte delle ore cosiddette di lezione qua in aula saranno noi che costruiamo insieme un programma cercando di capire come funziona cercando di ragionarci insieme quindi la parte più importante del corso è quella del laboratorio quindi lezioni di esercitazione classiche categorie del Politecnico sono mescolate nel senso che io non sono in grado di dirvi in quest'ora faccio lezioni in quell'altra faccio esercitazione ma mentre spiego una cosa non posso non fare l'esempio e quindi non saprei quale è una e quale è l'altra io nella meglio avevo scritto di portare in aula anche il PC in modo da poter fare gli esempi e gli esercizi insieme adesso non ci sarà la classica esercizione scrivo l'esercizio alla lavagna voi lo fate e poi lo vediamo insieme più che altro perché non c'è tempo perché siete in troppi però mentre io faccio qualcosa voi provate a farlo così se non vi viene o se non avete capito qualcosa sul momento si riesce già anche a interagire chiedere il chiarimento direttamente in aula io lo chiedo tutti gli anni che mi diano un'aula dotata di prese elettriche vedete come mi ascoltano perché dicono che ci sono le hanno messe che belle non hanno cambiato l'aula ma hanno messo le prese bene, mi hanno ascoltato ok le lezioni io provo a registrarle nel senso che quest'anno l'Ateneo non mi ha dato il supporto di videoregistrazione con borsisti telecamere eccetera ma io non mi faccio fermare e registro da me con un programmino di screencasting che è questo e pubblicheremo in autonomia una serie di lezioni di screencast su youtube direttamente è più facile da caricare per me e da voi per vedere e da vedere per voi rispetto ad entrare nel portale eccetera ciò che manca rispetto alle registrazioni quelle ufficiali del Politecnico sono due cose una la faccina del docente che parla ma credo che sia un vantaggio per tutti e due l'affidabilità nel senso che è capitato già qualche anno in cui io magari mi muovo troppo strappo il filo del microfono e si perde un pezzo di registrazione oppure una lezione avevo regalato male il volume e si sentiva troppo alto e disorceva completamente quindi essendo solo non posso ascoltarmi controllare se tutto va bene va bene può capitare lo dico già subito che qualche lezione possa avere degli errori diciamo dei problemi tecnici per cui vi do la garanzia che tutto il corso esattamente ci sarà però se per caso qualche lezione dovesse andare male ci sono quelle dell'anno scorso degli anni precedenti che al limite possono supplire speriamo che tutto vada bene ma la legge di Murphy ci dice che prima della fine dell'anno qualche sorpresa ce l'avremo il laboratorio diceva la parte più importante del corso classico laboratorio vi assegniamo degli esercizi provate a risolverli il testo lo pubblichiamo in anticipo il testo di domani c'è già sul sito del corso quindi qualcuno di voi magari l'ha già finito oppure no se riuscite a dargli un'occhiata prima oppure iniziarlo prima non è male perché in laboratorio riuscite a sfruttare meglio il tempo che avete a disposizione per fare domande furbe e non a cercare di capire cosa chiede il testo i sorgenti la descrizione dell'esercizio sono sempre disponibili su questo github che impareremo a conoscere così vi obblighiamo a usarlo anche solo per riuscire a leggere il testo dell'esercizio ovvio è tutto online per cui chi viene in laboratorio fisicamente bene chi per qualche motivo non può o non riesce a venire in laboratorio fisicamente può farselo benissimo offline tanto il materiale è tutto sul sito consegni elaborati è sbagliato nel senso che io non vi chiedo di consegnare niente ma siete voi che ve lo potete salvare può andare a rivedere eccetera e eventualmente usarlo per chiarimenti io tendo a essere abbastanza contrario a darvi le soluzioni degli esercizi nel senso che io sono convinto che sarebbe meglio non farlo però voi smarronate così tanto che alla fine abbiamo deciso di darvele ma sappiate che le soluzioni anche se le abbiamo già pronte non ve le pubblicheremo prima di due settimane dall'esercizio perché sennò è troppo comodo aspettare la soluzione vedere come l'ha fatto lui come l'ha fatto lui può essere interessante antropologicamente non lo so ma di sicuro non lo è algoritmicamente nel senso che un determinato problema si può risolvere in miliardi di modi diversi questo è un corso di progettazione non c'è mai una soluzione c'è la tua soluzione che è diversa dalla sua magari sono entrambe giuste e non ha senso che io cerchi ho fatto un ragionamento impostato il programma in un certo modo non ha senso che mi confronti con come lo stai facendo tu per cercare di farlo diventare più simile al tuo perché? che senso ha? ok? allora io credo molto di più nel incentivarvi a cercare di fare esercizi se non vi vengono spendiamo siamo in tre per fortuna ci possiamo dividere anche il tempo di consulenza rispetto a voi spendiamo il tempo che serve per guardare insieme a voi chiarirvi i dubbi chiedeteci di venire a consulenza anche al di fuori del laboratorio in ufficio per guardare insieme e cercare di chiarire i dubbi che avete sul vostro esercizio perché una volta che vedi il mio ti si cortocircuita il ragionamento che stavi facendo perché stai cercando di capire come ho ragionato io ma non frega niente sì, è interessante ma è importante che voi vi costruiate un vostro modo di ragionare e questo lo potete fare solamente lavorando sul vostro ok, non cancelliamo tutto e rifacciamo a modo mio no, cerchiamo con l'impostazione che hai dato di arrivare alla fine o beh, poi può darsi che in alcuni casi l'impostazione che avete dato faccia proprio schifo allora la buttiamo via ma sono casi rari, credeteci ok squadra di laboratorio allora, lo so già che quando avete visto l'orario avete cominciato a fare gli scongiuri e no, ma alle otto e mezza è una cosa brutta e sì, sì così come a 19 di Sena le cose brutte ce le danno sempre allora, io non ho trovato altri modi per cercare di ridefinire l'orario che non fosse quello di far a turno per cui io definisco due squadre squadra 1 e squadra 2 la squadra 1 è la prima metà dell'alfabeto la squadra 2 è la seconda metà dell'alfabeto tanto già in altri corsi si è diviso in questo modo e poi ogni settimana alterniamo le squadre così almeno mal comune mezzo gaudio o anche meno di mezzo gaudio ma mal comune dimmi lo dico anche io tutte le mattine quando sono alla sveglia che ho sovrapposizione con qualcos'altro e vorrei cominciare più tardi no allora per esperienza la frequenza del laboratorio tende a decrescere nel tempo ok le prime settimane è sovraffollato da metà corso in poi invece non c'è più nessun problema io vi chiederei però per le prime settimane di essere rigidi sulla divisione in squadre perché altrimenti quello che succede è che non riusciamo a darvi assistenza cioè i laboratori ci sono sempre almeno 2 o 3 persone tra noi e i borsisti che vi aiutano però di fronte a molte domande la risposta non è schiaccia qui e ci si deve mettere insieme e capire cosa state facendo e darvi la risposta allora se al secondo turno si che 40 persone ne vengono 60 oltre al fatto che diventa difficile proprio respirare diventa per noi impossibile seguire io ho avuto delle lamentere negli anni precedenti da voi, dai vostri compagni anni precedenti dicendo ma ci sono certi laboratori in cui stai 3 quarti di ora con la mano alzata e non vieni neanche a parlare con nessuno allora almeno all'inizio mi dispiace se qualcuno ha dei problemi ma cerchiamo di essere rigidi su queste cose al limite uno prova a farselo a casa se ha dei dubbi chiede via mail oppure a margine della lezione in qualche momento poi vi dicevo da metà corso in avanti questo non cessa di essere un problema per cui alla fine ci sono persone che si fermavano 6 ore perché si divertivano altri che arrivavano a una certa ora andavano via ma finché riusciamo a gestirlo non è un problema però so che il primo mese, il mese e mezzo invece è un problema la capienza del laboratorio che è quello che c'è scritto in ultima riga qua sotto ho provato a un anno a dire si fate lo scambio uno, uno tizio si scambia con l'altro ma vi assicuro che è più lavoro di quanto non valga la pena ok il video lezioni vi l'ho accennato il sito ecco diamo un'occhiata a cosa c'è su questo sito essenzialmente vabbè questa pagina di apertura contiene solamente gli avvisi tipicamente servono verso la fine del corso dove vi dettagliamo le squadre, gli orari per l'esame eccetera il programma è una pagina inutile perché è la copia di quello che c'è sul portale della didattica ma serve il motore di ricerca per far trovare la pagina la pagina che vi interessa è sicuramente il materiale dove pubblichiamo i lucidi delle lezioni quindi via via, lezione per lezione adesso qui sono grossomodo i titoli delle slide dell'anno scorso qualche cosina cambierà ma il grosso rimarrà uguale o simile e via via questo è semplicemente un testo poi diventerà un link da cui scaricare le slide in pdf le video lezioni qui compariranno qua adesso c'è una playlist vuota quindi youtube ci mette questo bellissimo disegno brutto ma poi compariranno i vari filmati delle lezioni i testi dei laboratori e a fianco col dovuto ritardo le soluzioni gli esercizi fatti in aula quindi tutto il codice che scrivo in aula lo pubblicheremo lo pubblicherò su questo sito github in modo che poi voi possiate alla fine della lezione direttamente prendere il codice che ho scritto io quindi non vedevo non ho capito bene eccetera non c'è problema non dovete stare a ricopiarlo integralmente perché sapete che verrà sempre pubblicato qua proprio come metodo di lavoro quando inizio un esercizio apriamo un progetto su github e quel progetto è pubblico e visibile da chiunque poi impareremo come dicevo a usare meglio github poi qui ci sono alcuni dei data set quindi dei dati su cui lavoreremo da scaricare i database su cui faremo gli esercizi che via via che ne troviamo di nuovo li aggiungo e delle informazioni sul software che dovremmo usare in laboratorio questa è la parte materiale poi torniamo al software dopo poi c'è una sezione esame dove ci sono le regole d'esame che è un po' prematuro per raccontare nel dettaglio e i testi di tutti gli esami che si sono svolti dall'inizio del corso che è nel 2013 quindi cinque anni fa quasi fino ad oggi e poi c'è la sezione registro che contiene lezione per lezione l'argomento che viene fatto il materiale che in realtà è un doppione di quello che c'è già ma là è organizzato in modo logico per argomento qua è organizzato in modo cronologico cioè in quella lezione abbiamo usato quelle slide e poi a fianco metteremo anche un link al video quindi in parte è un doppione rispetto a quello che c'è nella sezione materiale ma per chi magari ha saltato una lezione giovedì c'è sciopero o cose di questo genere almeno sa che in quel giorno è stato fatto quello noi cerchiamo di prevedere sempre beh in teoria abbiamo già il calendario finito fino a giugno però qualche cosa cambierà di sicuro però vi diamo sempre un po' di previsione un po' di look ahead su quello che verrà fatto almeno qualche lezione dopo e lo pubblichiamo qua quindi questo è tutto ciò che ci serve è pubblicato in parte sul sito da cui in molti casi ci sono dei rimandi a GitHub dove ci sono i sorgenti veri e propri questo GitHub è un sito fatto così è un sito su cui di fatto è il punto di concentramento o di concentrazione di tutti i programmatori del mondo essenzialmente in cui si concentrano e noi abbiamo un gruppo un dominio GitHub lo chiama organization un'organizzazione che si chiama TDP 2018 all'interno di questa organizzazione ci sono molti progetti per il momento ci sono due un progetto materiale in cui io ho semplicemente messo una copia delle slide e un progetto Lab 01 che ha il laboratorio che farete domani man mano che andiamo avanti aggiungeremo altri progetti Lab 2, Lab 3, Lab 4 per i vari laboratori e per i vari esercizi che faremo in aula poi ci sono insieme a questa organizzazione TDP 2018 ce ne sono altre sorelle una delle quali si chiama esami nella quale invece metteremo adesso non ho ancora completata ma via via lo faremo gli esercizi, i temi di esame precedenti degli anni precedenti magari quando prendiamo verso la fine del corso faremo un tema di esame in aula la soluzione la pubblichiamo lì perché diventa interessante in quanto soluzione del tema di esame non solo perché il 3 di giugno è fatto questo esercizio quindi questa è un'altra organization che ci interessa c'è una parte data sets nel quale anche ci saranno pubblicati i vari data set su cui lavoreremo queste due sezioni esami di data set sono nuove di quest'anno quindi per quello sono ancora abbastanza vuote le altre invece sono già consolidate dagli anni precedenti ad esempio se volete dare un'occhiata all'organization TDP 2017 qui ci sono tutti i progetti che sono stati svolti e pubblicati l'anno precedente e quindi vedete i vari lab e i vari esercizi che sono stati fatti durante l'anno tutti voi avrete, potete avere una pagina su questo sistema GitHub è gratuito iscriversi, anzi dovrete iscrivervi per poter non per poter scaricare perché è gratuito cioè si può scaricare pubblicamente senza password, senza nulla ma per poter salvare i vostri progetti sopra quindi una delle cose che vi invito a fare da subito è quello di creare un account su questo sito GitHub vado subito avanti visto che siamo sull'argomento vi registrate vi chiede di definire un nickname un login che è il nome e la sigla su cui verrete identificati e di fornire un indirizzo di mail allora il suggerimento è lo username pensatelo per il futuro cioè questo è l'account che vi create su GitHub e vi accompagnerà finché esiste la moda di GitHub ma per ora è abbastanza dominante tenete presente che in molte aziende tecnologiche una delle cose che ti chiedono insieme al curriculum è le credenziali di GitHub 2 per vedere che progetti hai fatto quindi quello che vi suggerisco è di non usare vedete che gli anni scorsi molti usavano come username la propria matricola il codice Politecnico allora visto che il Politecnico prima o poi lo abbandonate nel bene, non nel male e sicuramente la matricola tra un anno la cambiate quando fate la magistrale non usatela, ok? perché diventa un identificativo che perde di senso da adesso in avanti quindi usate un nome un identificativo che identifichi voi non il fatto che siete studenti ma come mail utilizzate la mail del Politecnico tanto poi si può cambiare questo perché? perché il modello di business di GitHub è basato sul fatto che è gratuito ma tutto ciò che caricate è pubblico, visibile a chiunque è chiaro che se io faccio qualcosa di serio magari per lavoro non ho piacere o per un'azienda non ho piacere che sia visibile a tutti allora per poter usare il sistema e caricare delle informazioni private quindi non visibili a tutti ti devi pagare quindi è un modello un po' strano tu dici ma scusa devo pagare per darti delle cose che tu non fai vedere agli altri sì, no? perché ormai l'abitudine a usare una piattaforma di condizioni di questo genere è così alta che nessun programmatore ne farebbe a meno però se lavoro in un contesto diciamo così economico in cui mi pagano per fare un lavoro il risultato non è pubblico e allora i repository privati si pagano da studenti o da professori o da appartenenti a un corso ci sono degli sconti per cui se voi create un account indicando come posta la posta del Politecnico potete andare poi su una pagina che si chiama education ah qui non ho scritto education.guitare.com non è quella con pag senza pag davanti e lì c'è un bottone chiedi uno sconto voi dite io sono uno studente loro riconoscono che il tuo indirizzo di mail è quello di un'università e quindi ti danno dei repository privati gratuiti quelli pubblici sono sempre gratuiti quelli privati sarebbero pagamento ma come studenti li abbiamo gratuiti quindi finché siete studenti quei repository lo potete usare GitHub anche per cose vostre private quando smettete di essere studenti dovete o cancellarlo oppure pagare è uno dei tanti modi quindi questo se lo volete fare già sin da oggi per domani è una buona idea, è un lavoro già fatto come prerequisiti, come argomenti, come temi allora questo è un corso in cui si programma in Java e quindi tutto ciò che sapete di Java ci serve dico il 98% perché le ultime se non sbaglio Lamberto l'ultima settimana giù di lì fa qualcosa sulle interfacce grafiche noi qui usiamo un toolkit diverso più semplice quindi anche se non avete capito niente di quella settimana va bene lo stesso tanto lo so che non lo mette all'esame e voi non lo sapete e quindi ci sono cose che si sanno allora, chiaramente è un prerequisito so anche che alcuni di voi, non so quanti per le alchimie del carico didattico non hanno messo, non hanno seguito il corso di programmazione di oggetti nei mesi scorsi e questo è un problema nel senso che io poi parlo, faccio cose e voi non capite nulla che non è piacevole per entrambi i lati ciò che io ho fatto in questi casi è darvi delle indicazioni qui c'è una sezione di FAQ molto breve sono due domande una delle quali è non sono riuscito a seguire il corso di programmazione di oggetti cosa posso fare ci sarebbe la seconda domanda l'ho seguito ma non ci ho capito niente oppure non ho studiato ma è sottintesa nella prima e allora io vi ho dato alcuni riferimenti a un libro che si chiama Head First Java che mi pare molto diretto, semplice a me è piaciuto e vi dico di studiare tutto il libro tranne questi capitoli che invece non servono non vengono usati nel testo e poi per chi non ha seguito il corso può chiedere a Lamberti che ha detto che è disponibile abilitarvi a vedere le sue video lezioni e poi se avete domande potete farle però è una, diciamo così un aspetto che dovete sicuramente riuscire a colmare una carenza che dovete sicuramente riuscire a colmare per poter seguire decentemente questo corso e analogamente alcuni argomenti verranno ripresi nel senso che soprattutto la parte sulla collection sulla collection, sugli oggetti in Java sugli escode, equals, tutte queste come si crea un oggetto fatto bene in Java queste le dovremo riprendere sicuramente perché ci serve lavorarci in modo più approfondito la differenza tra uguaglianza e identità queste cose strane che quando ve le hanno raccontate di cosa sta parlando avremo occasione di toccare con mano che se non le capiamo sbagliamo tutto e quindi qualche cosa lo andremo a riprendere oltre agli aspetti legati all'efficienza delle varie strutture dati perché se hai una lista con 20 elementi non te ne frega niente se hai una lista con 20.000 elementi il fatto che sia più o meno efficiente comincia a fare la differenza e poi l'altro preso di quidito forte è quello delle basi di dati cioè ciò che avete fatto di base di dati lo dovete ricordare noi qua non faremo delle interrogazioni delle query complicate come quelle che vi facevano all'esame query di 27 righe annidate eccetera eccetera saranno molto più semplici poi le esigenze di singoli programmini non sono molte più complicate però le dovete saper fare non so altro modo di dirlo la difficoltà non è tanto scrivere interrogazioni in SQL perché quello dovete ripassare un pochino come funziona, il join, il group by queste cose qua dove vi stagano all'esame la difficoltà in questo corso sarà riuscire a capire ma che cosa devo strare dal database perché a base di dati dicevano fammi un'interrogazione che tiri fuori esattamente questi dati fatti così qui ci ha già pensato qualcun altro qui noi, qualcun altro siamo sempre noi noi abbiamo di fronte un problema da risolvere cioè dobbiamo decidere quali strutture dati devo usare quali tabelle database devo usare quali query devo fare quali operazioni devo far fare al database e quali mi faccio io in java partizionamento tra il lavoro che fa il mio programma e il lavoro che fa la query ci arriveremo e sono tutte queste scelte di progetto che sono quelle difficili nel corso non tanto lo scrivere il codice ok? quindi però la praticità la conoscenza delle SQL per interrogare basi di dati in un modo molto più semplice di quanto non facevate in passato è necessario non è invece utile a questo corso, è utile in generale ma non nel corso la progettazione di basi di dati poiché lavoriamo con database, dataset che già esistono ci prendiamo la struttura non la progettiamo noi ci prendiamo la struttura di chi l'ha inventati e dobbiamo lavorare lì dentro quindi dobbiamo progettare noi le tabelle con il modello di entità relazioni e quindi i materiali di studio essenzialmente sono questi due un computer, il cervello e basta sì, no, poi per carità ci sono le slides, ci sono i libri ci sono i siti internet, ci sono Google, eccetera eccetera ma essenzialmente esercizi ci si scontra, attenzione non rompete solo lo schermo del computer perché a volte le craniate vi viene voglia di darle prendetevi sempre un cuscino a fianco, ecco se nel momento della craniata si passa sempre da quel momento però fare esercizi, ragionarsi, spaccarsi il cervello fino a quando non riusciamo a capire le varie cose poi via via andremo avanti con argomenti alcuni saranno più semplici, alcuni più pratici alcuni saranno invece anche un pochino più concettualmente complicati ma non c'è tanto da studiare io all'esame non mi faccio nessuna domanda di teoria vi chiedo di fare un programma di dimostrare che siete capaci di fare un programma internet google la documentazione che c'è online le istruzioni, i tutorial, le spiegazioni, gli esempi sono oro colato per qualunque programmatore dovete imparare a usarli bene ho visto gente remare all'esame per un'ora un'ora e mezza poi se ne sono andate perché l'esame dura due ore su un frammento di codice di che era nel primo risultato di una ricerca su google se chiedevi la cosa giusta il primo, non il secondo quindi anche imparare lo faremo alcune volte in aula insieme ma fatelo di più voi in laboratorio imparare a trovare le informazioni che ci servono imparare a ricercare su google ciò che vi serve con le parole giuste con le parole chiave giuste io sono capace eh, lo vediamo e leggere se tu fai una ricerca in italiano e trovi un blog in italiano scritto da Piripizzo nel 2011 quella è merda, scusate ok? quelle informazioni non hanno nessuna validità impariamo poi a riconoscere dove ci sono informazioni scritte bene affidabili aggiornate rispetto al copia e incolla di una cosa che non sai da dove arriva quindi già una prima cosa è fare ricerca in inglese e non in italiano perché sì perché la vastità delle persone che danno risposta che scrivono documentazione è così e poi tante volte la risposta c'è già nella documentazione ufficiale voi siete un pochino allergici siete cresciuti allergici così non è colpa vostra, vi disegnano così a leggere le fonti no? ah c'è sempre il tutorial c'è l'esempio c'è le slide e non bastano c'è una cosa che si chiama javadoc di tutte le funzioni, di tutti i metodi, di tutte le classi di solito c'è una buona documentazione per molte delle librerie quello che usiamo noi di sicuro allora per capire una cosa come funziona bisogna sporcarsi le mani e andare a leggere la documentazione alla fonte originale solo così capisci come funziona nel caso in cui serve a te non nel caso in cui serviva a quello là che ha scritto il tutorial che è una cosa diversa però questo di trovare l'uso giusto delle librerie giuste nel contesto in cui mi servono è un altro degli skill fondamentali oggi per chi lavora nel campo dell'ICT riuscire a sezionare informazioni buone, trovarle, leggerle e imparare a capirle imparare a leggerle e capirle poi troverete due o tre siti che sono quelli dove c'è la documentazione ufficiale Stackoverflow che è un altro sito molto gettonato dove ci sono effettivamente risposte valide ma dovete capire la domanda che è stata fatta capire la risposta e poi magari andare a vedere il codice nella risposta non nella domanda che era quello dove c'era l'errore come ho visto fare ecco, tutto questo in realtà non è che ve lo posso insegnare con le slide lo impariamo insieme sbagliando e riprovando facendo esercizi in aula, in laboratorio, eccetera ok? questo duetto qua è quello che lavora vabbè per aiutarvi noi cerchiamo di condividere tutto il materiale possibile se qualcuno ha piacere ci sono alcuni testi che possono aiutare come vi dicevo questo testo qua, AdFirst Java, può servire come ripasso di Java oppure per chi non abbia seguito il corso di programmazione oggetti quindi come corso accelerato di Java questi testi, questi libri qua io li ho messi in evidenza questa diciamo serie Head First perché hanno un approccio molto diretto non sono pallosi, cioè per carità insegnano Java quindi non sono libri di Bertolette però non sono accademici come impostazione sono molto pratici, disegnini, eccetera e quindi sembrano non è un libro che cerca di essere simpatico, poi non lo è ma cerca di fare esempi concreti che ti aiutano a capire i concetti a me piacciono molto come approccio e quindi ve li consiglio se il Java è più sulla parte di prerequisiti per noi sui design patterns invece sono meccanismi di programmazione che impareremo durante il corso quindi trarrò anche da lì alcuni esempi che faremo durante il corso insomma se qualcuno è curioso può andare a pescarseli qua ma sono, se vogliamo, testi aggiuntivi tra l'altro questi signori qua voi conoscete Orelli come editore? Orelli? No, è un editore specializzato in ICT in tecnologia informatica e quindi è un ottimo editore di solito i libri che pubblica sono molto aggiornati e abbastanza corretti cioè è difficile trovare strafalcioni o schifezze potete comprare i libri sia in cartaceo che in formato elettronico ok? come sempre l'offerta in italiano è il 5% di quella in inglese ed è vecchia di 3-4 anni perché i tempi di traduzione sono quelli che sono quindi magari orientatevi direttamente sulla versione inglese e così l'ICT parla inglese e vi insegno un trucco se voi dite o meglio Orelli dice che se voi possedete la versione cartacea di un libro quella elettronica costa solo 5$ legale non andate a scaricare schifezze in giro 5$ per la versione elettronica completa ufficiale e legale di un libro che avete già in forma cartacea la cosa italiana è che per verificare che voi abbiate la copia cartacea dovete semplicemente inserire il code ISBN del libro nel sito di Orelli quindi voi vi registrate, vi fate un account dite io ho questo libro e inserite l'ISBN che ovviamente lo trovate ovunque l'ISBN perché è un dato pubblico e gli dite questo libro e lui vi abilitarà l'acquisto della versione elettronica di quel libro lì in quell'edizione a 5$ ma lo sanno loro anche non è che dicano ci siamo accorti che abbiamo fatto no, lo fanno apposta per incentivare anche meglio vendere 100 libri a 5€ che nessuno a 50€ che loro ragionano giustamente anche così quindi il consiglio è di tenere in occhio questo editore se trovate un libro che vi interessa con questo giochino qua con 5$ vi portate a casa l'ebook tra l'altro con tutti gli aggiornamenti successivi che possono venire fuori negli anni ok strumenti allora noi lavoriamo in Java dicevamo quindi a parte degli strumenti che useremo già li conoscete cioè il JDK di Java e quella bestia feroce di Eclipse come ambiente di sviluppo Eclipse non mi piace particolarmente anzi tendo ad odiarlo però visto che già nei corsi precedenti avete usato questo per continuità non andiamo a complicarci le cose io sono stato in dubbio abbiamo fatto qualche prova anche se consigliarvi in questo corso di usare Java 8 oppure è già uscita la versione 9 Java 9 della virtual machine del JDK abbiamo alla fine deciso di rimanere ancora per questa Java 9 uscita qualche mese fa è stabile, si può usare però abbiamo deciso per quest'anno di rimanere ancora su Java 8 non che siano molto diversi per quello che si interessa a noi come programmazione non cambia niente quello che cambia un pochino è l'impostazione dei progetti cioè di come internamente le classi jar vengono impostate in un progetto che a noi di nuovo non interessa minimamente ma se fate un progetto in Eclipse con Java 9 questo progetto viene salvato in modo leggermente diverso per cui se lo importate in un'altra macchina che abbia Java 8 non riescerà ad aprirlo se non andate a cambiare la libreria sotto quindi è una grana in più visto che in laboratorio c'è Java 8 non tutti i corsi sono pronti per passare a Java 9 ancora per quest'anno rimaniamo su Java 8 quindi se sul vostro computer dovete installarvi ancora a Java installate la versione 8 e non la versione 9 intanto sul sito della Oracle ci sono entrambe prima la 9 dopo la 8 andate sotto di due righe non fermatevi al primo link che vedete il cliccamento compulsivo non usatelo con me e quindi installate la versione 8 e così non abbiamo problemi a scambiarci anche il progetto che metto su GitHub poi lo scarico su un altro computer siamo sicuri che siamo allineati sulla 8 e funziona se no ogni volta bisogna cambiare la libreria non è che si muoia però cerchiamo di evitare queste piccole frizioni inutili dentro Eclipse installeremo una libreria che si chiama EFX Clips che ci aiuta semplicemente a creare i progetti con la libreria grafica che si chiama JavaFX la libreria grafica che si chiama JavaFX è già inserita dentro Eclipse cioè dentro Java quindi fa già parte di Java semplicemente EFX Clips aggiunge un nuovo tipo di progetto dentro Eclipse quindi fai il nuovo progetto Java ci sarà una nuova voce e il nuovo progetto JavaFX per disegnare interfacce grafiche c'è anche un altro tooletto che si chiama SimBuilder che è un programma grafico per disegnare l'interfaccia utente questo va scaricato a parte sul sito del corso ci sono tutti i link non sto a ripetervele a parole quindi ciò che dovete scaricare è Java 8 ed Eclipse probabilmente li avete già oltre a questi lo SimBuilder e FX Clips lo installate dentro il marketplace di Eclipse dentro l'Eclipse è una voce Help marketplace da lì dentro scrivete JavaFX o FX Clips e ve lo trova questo per quanto riguarda la programmazione in Java poi c'è un database visto che lavoreremo non ancora adesso ma la settimana prossima e fine insomma inizieremo a lavorare con i database ci servirà a installare un database sul nostro computer allora noi useremo un database leggeri non quel mostro di Oracle e quindi useremo o MySQL o in realtà la versione open source si chiama MariaDB o MarayaDB a secondo di come lo vogliate pronunciare quindi vi dovete installare una versione recente di MariaDB anche lì mariadb.org ve lo scaricate e lo installate sul vostro computer in laboratorio c'è già oppure potete usare lo userete anche nel corso degli ore poi un pacchetto che si chiama XAMPP che contiene dentro la parte di web quindi Apache PHP e anche già MariaDB integrato quindi se installate XAMPP avete ciò che serve sia per il corso di web sia che per questo corso se invece volete tenere le cose separate pulite vi installate nella stanza di MariaDB separata che usiamo per questo corso e poi le librerie che via via dovremo installare di volta in volta due parole sull'esame anche se poi lo approfondiremo più vicino alle date fatidiche l'esame è un esercizio di programmazione in laboratorio vi daremo un testo di un esercizio e un progetto uno che abbiamo progetto base un progetto di partenza Eclipse già un po' impostato contenente lo scheletro del programma e da lì in poi dovrete implementare ciò che vi viene richiesto dal testo dell'esercizio l'esame si svolgerà a laboratorio LEP solito e durante l'esame potrete avere accesso a tutto il materiale che volete slide appunti progetti vecchi che avete fatto nel corso le soluzioni dell'esercizio nel laboratorio internet cioè vi lasciamo collegare a internet cercare su Google su Techoversello sul sito della Oracle dove volete cerchiamo di mettervi nella condizione in cui un vero programmatore si troverebbe quando dovesse implementare quel programma non è che se devo usare un problema allora adesso aspetta eh devo sapere tutto in memoria perché internet c'è ma faccio finta che non esista no non è realistico se diciamo metodi realistici di sviluppo software comprendono quello chiaramente non fatevi beccare a cercare di comunicare ecco però ricercare o scaricare informazioni si può motivo in più per imparare a usarlo bene ok nel testo ci sono due esercizi che con tanta fantasia chiamiamo punto 1 punto 2 il punto 1 è un esercizio di minima nel quale praticamente viene coperto il programma di metà della prima metà del corso via a span approssimativamente quindi accesso al database interfaccia grafica e grafi semplicissime operazioni con i grafi questo primo punto vale 20-21 punti non dico un numero esatto perché dipende poi dalla difficoltà di ogni singolo appello magari noi cerchiamo di fare sempre tutti i difficili uguali ma poi non è mai così quindi e la valutazione è di tipo on off cioè si fa il compito vi diamo il testo vi scaricate il progetto vi scaricate il database lavorate per due ore alla fine delle due ore vi chiediamo di uscire dal laboratorio e uno uno rientrate vi chiamiamo e guardiamo insieme il punto 1 cioè fai partire il programma e fammi vedere come funziona nell'eseguire e fare il calcolo che è richiesto nel punto 1 se funziona perfettamente correttamente tu sai già che hai passato l'esame e ti dico già il punteggio minimo che può essere 20-21 oppure se c'era un'imperfezione ti tolgo un punto ti tolgo 2 ti tolgo 3 di più no perché stai ribocciato quindi il punto 1 deve funzionare eventualmente con qualche piccola imperfezione e scendi dal 21 fino al 18 poi c'è il punto 2 è una parte più algoritmica dove c'è ricorsione dove c'è simulazione dove ci sono algoritmi un pochino più complessi questa parte viene corretta offline cioè non la coraggiamo lì sul momento perché per corregirla la parte algoritmica dobbiamo un attimo guardarci il codice capire cosa stavate facendo e anche in due ore non dico impossibile ma sarebbe chiedere troppo che funzionasse perfettamente perché comunque algoritmo richiede un pochino di di debug di tempo anche di e quindi andiamo a valutare cosa avete fatto come avete impostato gli algoritmi le strutture dati questo lo valutiamo come fosse la correzione di un compito però semplicemente lo consegnate su file anziché consegnarlo su carta però nel momento in cui voi uscite dal laboratorio sapete già se avete passato l'esame o no sapete già qual è il punteggio minimo quindi prenderete 20 più tanti punti quanto dipenderà da quanto valutiamo bene o male al punto 2 oppure sapete che non avete passato finisce lì questo nell'ottica dell'ultimo semestre dell'ultimo anno ritengo che sia un aspetto abbastanza importante sapere se quel giorno lì perché se puoi laurearti o no perché io il giorno dell'esame ti dico già se hai passato l'esame poi il voto magari non te lo dico ancora perché devo ancora finire di correggere poi vabbè poi più avanti entriamo nel dettaglio di come si svolge l'esame che è gestito da un flow chart di questo genere ma non mi sembra che la prima lezione sia già utile questo l'avete già visto quali sono le percentuali di superi di questo corso essenzialmente questi due numerini qua dicono che è più facile superare l'esame al primo anno che non in seguito cioè il fatto di riuscire durante il semestre a seguire il corso a fare i laboratori ha un effetto correlato positivamente con la probabilità di passare l'esame quindi è il tipico esame che se uno riesce a seguire facendosi i laboratori arriva all'esame e lo passa facilmente perché è come se fosse il quindicesimo laboratorio questo è il grafico dei voti la differenza tra le due curve non sono i grafici che sono sul portale non è nulla di nuovo per voi volevo solo commentarli insieme a voi la differenza tra le due curve è chi passa il primo anno e chi passa in generale tutti allora quello che si vede è che la differenza tra la curva azzurra chiara e blu scura è quasi sempre concentrata sui voti bassi cioè chi non riesce a passare l'esame al primo anno all'anno successivo lo passerà con dei voti bassi detto in altri termini chi prende i voti belli i voti migliori vengono presi ma non è che lo faccio apposta non è che vado a vedere a posteriori si nota questo i voti migliori se li accaparrano a coloro che hanno seguito e hanno dato l'esame diciamo così in corso la distribuzione di questi voti a me piace molto poco perché ha un forte addensamento intorno al 20 io lo dico sempre però poi questo perché ci sono molte troppe persone che visto che l'esame è strutturato in queste due parti si preparano solamente per il punto 1 cioè arrivano l'esame e dicono io sono contento se riesco a farlo bene se a farlo e il punto 2 non ci provano neanche a farlo allora questo ovviamente è legito nel senso che se le regole esame sono queste qualunque cosa sia compatibile con queste regole esame va bene è un peccato perché la parte più gustosa diciamo così degli argomenti che potreste imparare ve la perdete è un rischio perché se tu ti prepari per il 20 e ti scappa la cazzata sei bocciato se ti prepari per il 25 e perdi due punti va bene lo stesso o passi lo stesso quindi ci sono poi molte persone che vengono bocciate perché si preparano solamente per la prima parte e poi sul momento fanno qualche errore può capitare sempre oppure se ti prepari per il minimo per toccare il soffitto poco ci vuole per arrivare sotto quindi però io più che dirvi di incentivarvi cercare di provate a prepararvi per l'esame completo ma poi mal che vada avete comunque paracadute che se fate il primo punto l'esame l'avete passato ma non puntate a questo perché altrimenti rischiate voi ok questo era grossomodo quello che volevo raccontarvi come discorso introduttivo non so se ho lasciato fuori degli argomenti o dei punti che di cui siete curiosi e che vi interessa sapere allora se non ci sono domande io comincerei subito subito no ma direttamente a entrare nel vivo a cominciare già la parte di programmazione l'interfaccia grafica in JavaFX che vi servirà già in laboratorio domani c'è per una domanda sì giovedì giovedì che sono stati proclamati per giugno sto ripetendo la domanda per registrazione però lo farò sempre e quindi cosa succede se io farò comunque due appelli oppure uno solo non lo so ancora nel senso che non lo so ancora non so neanche se questo sarà il mio appello in cui eventualmente dovrò scioperare perché sapete che ciascuno di noi professori ha un appello diciamo lo sciopero è programmato in modo che il professore se sciopera sciopera nel primo dei suoi appelli io ho tre corsi quindi non so se l'appello di TDP sarà il primo dei tre ok quindi al momento non lo so ancora sicuramente appena le cose saranno più chiare e avrò preso una decisione ve lo comunico il metodo per? il metodo per? il metodo di correzione della seconda parte si no no allora il metodo di correzione della seconda parte allora la prima parte è usare il programma quindi proviamo inserire dei dati a vedere se funziona e se funziona il risultato corretto dà il punteggio alla prima parte sulla seconda parte invece ci andiamo a guardare il solcente perché quasi sempre ma per come è stato pensato l'esame quasi sempre non sarà possibile completare la seconda parte cioè chi è sveglio veloce magari ce la fa però per noi non è fondamentale quello quindi non ci sono test automatici che valutano il programma anche perché avendo il programma con interfaccia grafica diventa molto difficile automatizzare il testing quindi saremo noi che dobbiamo andare leggere leggeremo il sorgente capiremo cosa avete fatto e diamo poi una votazione di merito sul sorgente ma non è detto che se noi vediamo il concetto del codice che magari funziona non è automatico perché è un suo sorgente che non veniva avuto tutto il processo se il programma deve essere finito o terminato e deve essere se il programma è finito o terminato tutto giusto prendi 30 log se se si si valuta si valuta più che l'efficienza del codice che non c'è tempo di andare a ottimizzare proprio tempo materiale nell'esame si valuta di più l'impostazione delle strutture datiche che sono state fatte eccetera ma il tipo di di domande che diamo nel punto 2 è tale per cui se non hai impostato se sei impostato una ricorsione se non l'hai impostata bene non ti funziona quindi il fatto che dia il risultato corretto vuol già dire che dietro c'è un'impostazione algoritmica corretta ah si la cosa che non ho ancora detto scusate perché mi sono dimenticato di scrivere nelle slide prima me l'ha fatta venire in mente lui è non relativo all'esame ma relativo ai laboratori praticamente sempre nei laboratori ci sarà una o due domande i laboratori sono organizzati per punti fai una cosa poi su questo aggiungi modo da guidarvi gli ultimi punti sono sempre fatti in modo da obbligarvi a cercare informazioni che non abbiamo trattato in aula cioè mentre sui primi punti sono cose che magari abbiamo già fatto conoscete bene se hai già usato un esempio simile eccetera almeno una o due domandine sono cose che vi chiedono di andarvi a cercare delle informazioni in più proprio per questa diciamo così importanza di riuscire a trovarle magari non sono cose complicate ma te le devi andare a cercare eh poi ovviamente se avete bisogno siamo lì per aiutarvi però sappiate che il testo questa domanda dice ma sì ma questa cosa non l'abbiamo fatta appunto te l'ho messa apposta quindi non spaventatevi se le ultime domande dei testi sono non è che abbiamo sbagliato a farle l'abbiamo messa apposta ok allora io farei un intervallo se volete riprendiamo alle 5.35 puntuali così iniziamo a fare la parte di JavaFX grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti